Siamo nel palazzo che si trova a Via Epistopia, un'antica strada di torre dove visse e morì il Beato Vincenzo Romano. Abbiamo varie devozioni, abbiamo una Madonna immatolata, ma la cosa più simpatica del rimasto dell'antica torre è questa tassetta qua sotto che molti chiedono che cosa è. È una tassetta che era presente in tutte le famiglie torresi. La tassetta a che cosa serviva? La tassetta serviva a riporre al suo interno tutti i preziosi della famiglia. Ma quando c'era il Vesuvio, inominciava i ruttari, i torresi prendevano la cosa più preziosa che avevano in tassa. Cioè la tassetta, tutti i preziosi, e li portavano via. Questo è l'unico esempio che abbiamo qui a Torre Redo di tassetta, proprio la tassa dove la famiglia del Beato metteva i preziosi quando c'erano le varie devozioni.